il professore è sempre stato molto bravo a capire le persone e a volte gli si avvicina totalmente tanto che ne è rimasto scottato ha capito che nella vita ci sono due tipi di persona da cui bisogna sempre guardarsi quelle che si nascondono che tendono a stare nell'ombra non dire niente di se stesse e quelle che al contrario cercano di mettersi in luce straparlano parlano sempre di sede le loro imprese anche queste non fanno altro che cercare di nascondere qualcosa sotto tutto il resto adesso che è arrivato questo nuovo ospite dell'albergo valerio di fredi il professore non riesce a decidersi non ha ancora capito se è uno che straparla proprio perché vuole camuffare qualcosa o se è semplicemente un tipo molto adulto piacevole intelligente strano che non riesca a capirlo perché il professore è uno che è abituato alla finzione ha passato tutta la vita con gli studenti ma in questo caso non riesce a capire se valerio di fredi se effettivamente una persona estroversa o se invece sia uno che finge molto molto bene grazie a tutti Grazie a tutti.